Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La chiesa nella città. Questa settimana parliamo di un tema che forse potrà parere a qualcuno tecnico ma che però è davvero importante per la nostra vita ecclesiale, per la nostra chiesa per il nostro essere chiesa, per il nostro essere insieme come diocesi attorno all'arcivescovo camminando, come dice talvolta, sulle strade della storia. E allora vado subito a presentare i nostri ospiti inizio per dovere di cavalleria dalla signora Rosangela Caru benvenuta che è membro del consiglio pastorale diocesano ma anche in quello della comunità pastorale di cui fa parte ma ci racconterà tutto e poi Monsignor Marino Mosconi che ringrazio davvero è la prima volta che è nei nostri studi spero che non sarà l'ultima, non è una minaccia ed è cancelliere arcivescovile dell'arcidiocesi naturalmente ma vogliamo iniziare da una presentazione volevo dire da un promo ma mi sembra un termine non adatto da una presentazione dell'arcivescovo stesso di quello che è quest'anno il suo percorso quaresimale tutte le sere proposto attraverso gli strumenti della comunicazione sia alla televisione, da Telenova, poi sulla app e naturalmente dal portale della diocesi di Milano e dai social della diocesi proprio per il periodo che ci accompagna verso la Pasqua quest'anno il titolo è Credo ma l'orario è sempre 20.32 vediamo Iniziamo la Quaresima La Quaresima, cammino verso la Pasqua è l'occasione propizia per ricordare il nostro battesimo la nostra rinascita dal battesimo alla vita nuova perciò ho chiesto di cominciare questa Quaresima qui nel battistero dell'antica cattedrale di Milano quello in cui fu battezzato Sant'Agostino da parte di Sant'Ambrogio un evento che ha segnato la storia delle nostre chiese e perciò qui conviene che noi ci troviamo per meditare il credo che ci consente di comprendere perché è nuova la nostra vita in chi noi poniamo la nostra fiducia vi aspetto dunque vorrei entrare in ciascuna delle vostre case in occasione della preghiera della sera alle 20.32 ma naturalmente è accessibile tutti gli orari in cui voi è possibile pregare vi aspetto tutti andiamo insieme verso la Pasqua del Signore lo avete visto quindi da domenica 18 febbraio con cui inizia la Quaresima Ambrosiana appuntamento fisso alle 20.32 corre l'obbligo di dire che qualsiasi sia la trasmissione in quel momento in diretta su Telenova verrà interrotta perché parla l'Arcivescovo di Milano torniamo a noi ai nostri ospiti inizio da lei Monsignor Mosconi in questi giorni è stato reso pubblico un documento abbastanza poderoso e ponderoso ma soprattutto per quello che significa il direttorio per i consigli di comunità pastorale e parrocchiale ecco naturalmente lei come cancelliere parte in causa e come si può dire conoscitore in formato dei fatti per usare un termine giuridico che cos'è questo direttorio? si tratta di una realtà che si inserisce pienamente in un percorso potremmo dire consolidato ma per certi aspetti sempre nuovo direttorio è un termine che ultimamente deriva dal latino directorium il cui significato è itinerario tracciato quindi una strada indica una strada per i nostri consigli e immagino questa strada più che come un'autostrada quindi bella definita nelle sue precisioni come dei segnali di pista segnali di pista sono uno scout quindi conosco anche questa realtà sono quei segnali che sono nel bosco e che ti permettono di riconoscere il cammino il cammino lo devi fare tu ogni parrocchia ogni comunità pastorale ma i segnali sono importanti perché ti dicono dove si svolta dove si deve sostare quali sono i pericoli da evitare e quindi questo strumento vuole essere a servizio appunto di comunità pastorali e parrocchie perché possano sviluppare questo organismo fondamentale della corresponsabilità ecclesiale che sono i consigli consigli pastorali e consigli per gli affari economici ecco vengo a lei come ho detto lei siede nel consiglio pastorale diocesano che ovviamente è il consiglio pastorale come capite centrale ma anche nel consiglio pastorale della realtà di comunità pastorale nella quale vive quale in specifico? allora io appartengo alla comunità pastorale regina della famiglia a Gallarate in realtà è l'insieme di due parrocchie questa comunità pastorale Madonna in Campania e Arnate e la mia esperienza all'interno dei consigli pastorali parte dal 1976 quando ho iniziato a essere membro allora ero giovanissima del primo consiglio e posso dare dei numeri ho fatto otto consigli pastorali di parrocchia o comunità pastorale da quando sono nate e insieme a cinque parroci con i quali ho collaborato come segretaria e poi ultimamente anche come membro della giunta da quando le giunte sono state messe in essere due consigli pastorali decanali con tre decani e due consigli pastorali diocesani con due arcivescovi praticamente siamo un record immagino non lo so credo ci sia qualcun altro che batta questo record certo sono tre esperienze simili e nello stesso tempo diverse perché il consiglio pastorale della parrocchia o di comunità pastorale ha uno sguardo sulla realtà il proprio territorio quello decanale lo sguardo sicuramente si amplia e quello diocesano ha uno sguardo sotto la sapiente guida dell'arcivescovo della diocesi e della chiesa universale quindi esperienze a tutto tondo ecco l'arcivescovo ha voluto accompagnare questo direttorio con un suo messaggio personale sappiamo quanto stia a cuore a Monsignor Delpini camminare su queste strade che vorremmo chiamare anche in qualche modo di sinodalità con un termine forse oggi abusato ma che insomma dice anche della stagione che stiamo vivendo come chiesa come chiesa diocesana ricordo le assemblee dei canali ma ricordo anche il cammino universale fra la prima sessione e la seconda siamo in questo momento dell'assemblea universale del sinodo ecco l'arcivescovo dice noi cattolici siamo originali sintetizzando possiamo dire non siamo tra quelli che vogliono evitare fastidi responsabilità l'individualismo è dominante ma noi invece vogliamo essere a servizio la complessità della società induce a sospetto e paura noi vogliamo darci coraggio per usare un po' il titolo parafrasando del discorso alla città 2023 è tutto per prepararsi al meglio alla data del 26 maggio 2024 che è quella del rinnovo dei consigli pastorali ecco come legge questa originalità? un'originalità che dobbiamo cogliere sotto diversi aspetti certamente innanzitutto l'originalità è il modo in cui si intende la partecipazione a questi strumenti parliamo di elezioni questo appunto l'invito per la data della domenica 26 maggio Santissima Trinità ma elezioni che hanno un significato molto originale antico perché la chiesa è la realtà forse non è noto ma che nei secoli più di tutti ha conservato il metodo delle elezioni negli istituti religiosi nei capitoli canonicali ma elezioni che non hanno un significato contrappositivo come siamo abituati nella dialettica democratica ma un significato comunionale e questa comunione che è il nesso che ci unisce ha un fine specifico che è quello della missione e il carattere missionario di questi strumenti è nella capacità attrattiva che le nostre comunità cristiane sono chiamate a porre in essere non si diffonde il Vangelo convincendo mediante un'attività semplicemente di propaganda ma dando l'esempio che vi è un contesto in cui si vive secondo il Vangelo e questi strumenti sono a servizio delle nostre parrocchie comunità pastorali perché siano luoghi evangelici ed essendo luoghi evangelici luoghi attrattivi luoghi di comunione luoghi di missione ecco faccio la stessa domanda anche a lei ovviamente da una prospettiva un poco diversa che è quella di uno degli estensori di questo documento sul territorio come si può leggere questa originalità nella vita anche di tutti i giorni? diciamo che sul territorio qualche difficoltà magari la si incontra proprio perché stiamo vivendo una fase un po' di difficoltà di fatica nella disponibilità di rendersi disponibili sembra un po' un gioco di parole ma come dire di voglia di impegnarsi di passare da quella che un tempo si chiamava la collaborazione alla corresponsabilità che è un passo successivo secondo me la corresponsabilità nasce dall'essere prima responsabili di un impegno che ti viene affidato sappiamo che l'arcivescovo è sicuramente sempre molto non so se mi posso permettere accattivante, simpatico nel suo modo di porsi per attirare l'attenzione e lui stesso nell'ultimo consiglio pastorale di Ocesano quello di novembre dove l'intera sessione era stata proprio sulla trovare i suggerimenti da dare per il nuovo direttorio ha fatto proprio quasi mi permetto di dire un appello perché noi laici siamo capaci di trasmettere questa passione per la Chiesa essere capaci di coinvolgere le persone dobbiamo essere attenti e cogliere questa volontà da parte dell'arcivescovo che io interpreto un po' come un buon padre che ha cura dei suoi figli e quindi della sua Chiesa che è la sua grande famiglia e vuole che insomma ci sia questa partecipazione questo desiderio di un pochino rimboccarsi le maniche e dire mi sta a cuore o voglio anch'io di impegnarmi o voglio anch'io di lavorare per il bene della Chiesa ecco in queste domeniche si legge sempre a margine del messaggio dell'arcivescovo che precedono la costituzione dei consigli pastorali quindi diciamo da qui a maggio è significativo che nelle celebrazioni eucaristiche si preghi nelle Chiese della Diocesi con un'intenzione ispirata al messaggio e comunque a questa attenzione per i consigli questo è un modo per dire che la preghiera la celebrazione non sono disgiunti da quello che può apparire un documento formale un adempimento qualcosa che a qualcuno può sembrare appunto burocratico e basta c'è un innesto fra queste due dimensioni? ma certamente all'origine di tutto c'è lo spirito è lui che ci convoca e quindi la dimensione spirituale è fondamentale c'è anche un elemento può apparire marginale ma interessante in questo nuovo direttorio uno dei numeri che raccoglie in modo pressoché identico una mozione votata dal Consiglio presbiterale parla proprio della dimensione spirituale dell'attività del Consiglio e proprio evidenzia che quello della dimensione spirituale non è solo un elemento aggiuntivo la preghiera perché tutto vada bene come per ogni altra esperienza della vita ma è un elemento sostanziale come amava ripetere il Cardinal Scola e come si trova anche in questa mozione il nostro riunirci come figli e figlie di Dio dovrebbe sempre avere il sapore dell'Eucaristia il sapore di persone che sono riunite per rivivere la Pasqua di Gesù intorno a quell'entusiasmo e con quella convinzione questo dice davvero in nesso profondo che la tradizione della Chiesa custodisce e che nella sua umiltà anche questo strumento del direttorio vuole riproporre a tutti noi Lei ha citato il Cardinale Scola io ricordo in molte visite pastorali decanali ne abbiamo compiuti dico abbiamo perché l'ho seguito in tutte le visite oltre 72 allora era diversa la composizione dei decanati l'Arcibescovo Scola di allora diceva il comando dell'Eucaristia non il consiglio di celebrare l'Eucaristia vi lascio questo comando l'Eucaristia noi ci lasciamo per qualche momento ma torniamo tra pochissimo e quindi come dico sempre restate con noi Ben ritrovati nei nostri studi stiamo parlando del direttorio per i consigli di comunità pastorale e di parrocchia il rinnovo il 26 maggio di questi consigli saranno in carica per 4 anni quindi mandato 2024-2028 è un passaggio cruciale importante ecco chiedo a lei nella sua esperienza dire parte di questi consigli a diversi livelli come abbiamo capito e in molte stagioni ecco c'è qualcosa di particolarmente positivo che ricorda e invece qualcosa che andrebbe migliorato secondo lei allora il positivo parto proprio dalla mia esperienza come dicevo all'inizio ho collaborato a fianco a fianco diciamo con i sacerdoti in qualità di segretaria e membro della giunta e devo ringraziare quindi sono parole di gratitudine sicuramente per il dono che ho avuto di avere questa esperienza e la riconoscenza nasce dal fatto di aver ricevuto una grazia non è stato merito mio forse neanche dei sacerdoti ma insieme ci siamo trovati in unità e per me era fondamentale non si poteva lavorare se non in unità quindi l'essere sempre andata d'accordo lo trovo un aspetto sicuramente molto importante come elemento forse da migliorare se è possibile usare questo termine in funzione dei nuovi consigli mi viene da dire che è importante la cura della relazione favorire dei consigli che mettano al centro rapporti di comunione di fraternità lo stesso arcivescovo anche in consiglio di Ocesano lo sottolineava nei lavori che abbiamo fatto nelle zone emergeva questa fatica e questa necessità dallo stesso punto di vista il bisogno che si ponga più attenzione ai rapporti tra le persone è vero abbiamo i consigli che hanno sempre degli ordini del giorno delle cose da mettere a punto ma più che prima organizzare più che pensare favorire appunto questa relazione un po' come diceva l'arcivescovo mi rifaccio all'intervento precedente anche lui ha detto dobbiamo tornare un po' alle radici avere dentro questa passione per la Chiesa ma soprattutto facendo riferimento alla parola di Dio e avere gli stessi sentimenti di Cristo quindi se siamo così diventa anche più facile forse riuscire a lavorare insieme e a costruire una comunione una fraternità all'interno della realtà dei consigli perché è vero che dobbiamo lavorare per la missione per evangelizzare ma la prima deve essere all'interno nostro certo lei è anche membro di assemblea sinodale del canale sono moderatrice e la logica lo capite anche nei termini assemblea sinodale decanale dice di un cammino insieme evidentemente il direttorio diciamo si presenta articolato in sette parti ora sarebbe lungo e non è questo ovviamente il luogo però si va dal consigliare nella Chiesa alla costituzione dei consigli appunto pastorali compiti le modalità si parla anche di consigli per gli affari economici i rapporti col decanato le cappellanie ecco qual è secondo lei il fattore se c'è di novità qualcosa su cui avete voluto insistere perché magari avete appunto trovato carente nei precedenti documenti sì le novità sono ovviamente molte mi soffermo su tre capitoli in cui si possono raggruppare queste novità il primo è questa insistenza sulla elezione sulla scelta delle candidature con alcune semplificazioni procedurali che ora non è nucleo nel loro dettaglio e questo è molto importante che nei consigli quindi ci sia una si possa contemperare la presenza di persone di grande esperienza come la signora ma anche di persone nuove nella mia esperienza nella mia parrocchia io sono in città di Milano però che Gesù è un pastore è che ogni rinnovo è l'occasione per far emergere dei talenti nascosti persone che sono presenti nelle nostre comunità e che esercitando questo compito possono sentirsi maggiormente consapevoli del loro essere parte viva della Chiesa poi una seconda novità molto insistita è sul metodo di lavoro la giunta diventa non solo prevista come possibile ma obbligatoria e si deve agire insieme alla giunta e studiare anche metodi di lavoro nuovi in appendice a questo direttorio noi abbiamo un metodo che è il metodo della conversazione nello spirito un elemento di forte novità non è l'unico però ma studiare modalità nuove di lavoro per rendere più efficace e poi un terzo elemento che anche qui mi limito ad accennare è un rapporto più stretto tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici perché la dimensione economica nella Chiesa non è una dimensione puramente strumentale ma è parte viva della nostra testimonianza e a questo proposito anche uno strumento che viene particolarmente consigliato che è il bilancio di missione uno strumento con cui si rende leggibile non solo la realtà dei conti economici ma ciò che la Chiesa fa con i beni per dire qual è la sua missione qual è il cuore della sua attività ecco questi tre cenni ne approfitto per dire che la diocesi stessa per la prima volta l'anno scorso ha redatto un suo bilancio di missione e lo farà ancora l'anno 21 era qui ospite qualche mese fa quando fu presentato eravamo nel mese di maggio il bilancio era qui ospite Monsignor Marinoni allora moderator curie proprio per spiegare il senso del bilancio di missione che non è solo una serie banalizziamo di cifre, di conti ma indica proprio sì, un bilancio che ha a che fare con dei numeri ma per una missione e quindi tutto diciamo si lega ecco io ricordo che il vicario generale ha anche lui diciamo mandato un testo tutto trovate sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it sulla home page e poi entrando nella pagina dedicata proprio al direttorio ai consigli alla rielezione dicevo il vicario generale Monsignor Franco Agnesi indica anche che dall'11 febbraio che è stata l'ultima domenica dopo l'epifania è iniziato un cammino di riflessione di ripensamento e di sguardo verso il futuro dovranno essere costituite delle commissioni preparatorie per il rinnovo dei consigli quindi vedete un lavoro elaborato ecco chiedo a lei avvierete una riflessione sul direttorio? Certamente anzi approfitto per dire che proprio lunedì scorso abbiamo fatto il consiglio pastorale di comunità pastorale e abbiamo dato questo annuncio insomma del direttorio che era appena uscito quindi dovevamo incominciare a pensare alla commissione preparatoria quindi abbiamo formato la commissione preparatoria e il primo compito sarà proprio quello di leggere e studiare il direttorio e poi avviare quella che sarà un po' la modalità per coinvolgere la comunità certo sarà un compito del parroco ma non solo come commissione studieremo quelle che sono le modalità dall'organizzare un'assemblea parrocchiale di comunità per mettere in risalto quelli che sono stati i punti di forza piuttosto che quelli di difficoltà ma anche proprio trasmettere la bellezza di appartenere ad un organismo come il consiglio pastorale per entrare più da vicino in quella che è la realtà della chiesa appassionarsi alla propria comunità avere a cuore questo messaggio di evangelizzare di essere pietre vive insomma della chiesa locale devo dire e devo riconoscere chiudo con questo che mi piace ricordare che ho un po' imparato a servire tra virgolette la chiesa attraverso l'azione cattolica la chiesa locale e mi ha aiutato ad avere questo sguardo ampio e di avere questo entusiasmo e questa passione per la chiesa ricordo che siamo in un momento significativo per l'azione cattolica ambrosiana vi è stata la diciostesima assemblea generale elettiva proprio domenica scorsa per chi ci ascolta in diretta di giovedì e domenica prossima vi sarà un momento significativo la messa la prima di quaresima presieduta dall'arcivescovo nella chiesa di Sant'Antonio Abate con i membri dell'azione cattolica ambrosiana e probabilmente verrà anche reso pubblico il nome del nuovo presidente scelto dall'arcivescovo in una terna appunto emersa dalle elezioni di domenica presso l'università cattolica di domenica scorsa presso l'università cattolica del Sacro Cuore un'ultima domanda gli elettori possono essere tutti coloro dei consigli pastorali intendiamo che abbiano compiuto i 18 anni che ovviamente abbiano una vicinanza con la fede con la realtà parrocchiale ma se uno volesse proporsi come candidato cosa deve fare? evidentemente le votazioni appunto non sono centralizzate sono in ogni realtà quindi ogni commissione preparatoria avrà poi il compito di dare questa possibilità ecco l'elemento da cui partire lo dice anche la relazio conclusiva della prima fase del sinodo dei vescovi è la passione per la chiesa vanno trovate persone in questo orizzonte ovviamente uno si potrà anche proporre se ha questa passione se condivide questa passione ci sono anche dei requisiti ovviamente previsti nel direttorio non chiunque anche delle incompatibilità ad esempio con l'ambito politico evidentemente perché dobbiamo importare elementi di divisività però l'importante oltre a dare questa possibilità a tutti è davvero di suscitare in tutti nel cuore di tutti questo interrogativo cosa posso fare e davvero questa possibilità è accessibile a chiunque ecco è importante comprendere che la chiesa non è riservata da alcuni specialisti men che meno i soli presbiteri ma davvero ogni cristiano a partire certo si parte un po' sempre da quelli che svolgono un compito nella chiesa con catechisti o altre attività ma non solo ogni cristiano perché testimone della fede da dove egli vive è un candidato potenziale e io segnalo che domenica 20 ottobre certo è molto lontano ma per dire che sarà compiuto questo percorso o meglio saremo alla prima tappa di un percorso che poi deve proseguire per i prossimi 4 anni domenica 20 ottobre l'arcivescolo inviterà in Duomo tutti i nuovi consiglieri eletti e allora io ringrazio davvero Rosangela Caru che è anche pedagogista mediatrice familiare ma che era qui nella sua veste di membro di comunità di consiglio di comunità pastorale e Monsignor Marino Mosconi che è il cancelliere arcivescovile ed è uno dei primi collaboratori dell'arcivescovo di Milano e quindi tanti impegni grazie per essere stato con noi adesso noi ci lasciamo ancora per qualche momento ma torniamo insieme con l'attualità e quindi non potete che rimanere con noi ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo subito virtualmente per andare presso la sede di Caritas Ambrosiana dove si è svolto l'annuale convegno di mondialità dedicato e non poteva essere altrimenti alla pace vediamo siamo convinti che si può fare qualcosa siamo testardi e incoraggiamo tutti gli operatori pastorali e parrocchiali a tenere l'orizzonte della pace nelle parole con cui Luciano Gualzetti direttore di Caritas Ambrosiana apre il convegno mondialità 2024 dal titolo facciamo la pace da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno c'è tutto il senso di un ritrovarsi insieme con una speranza per una pace vera 100 i presenti nella sede di Caritas Ambrosiana ma 400 collegati da remoto per l'incontro moderato dal giornalista Alberto Chiara e che vede l'intervento iniziale dell'arcivescovo e la presenza dei vertici della diocesi con il vicario generale il moderato Orcurie il vicario episcopale di settore e naturalmente i responsabili dei due servizi diocesani coorganizzatori la pastorale dei migranti e quella missionaria il buonsenso la condizione per vivere in pace e la guerra è un disastro dice subito Monsignor Delpini dunque che fare cosa pensare cosa sperare si chiede il vescovo Mario in una società che fa a meno di dio che è molto più difficile sperare che anche i potenti si convertano che anche gli uomini e le donne di buon senso possano recuperare il buon senso e allora l'invito alla gente di preghiera è quello di farsi avanti uomini e donne disponibili al sacrificio perché si possa immaginare che attraverso i passi quotidiani attraverso anche i gesti minimi attraverso anche piccole cose di profezia possa tornare in mezzo alla gente la speranza che la pace sia possibile poi la relazione del gesuita padre Carlo Casalone teologo collaboratore della pontificia accademia per la vita e presidente della fondazione Carlo Maria Martini che parla di una pace come prodotto e di una pace invece come dono come è stato detto giustamente i fiumi di sangue sono sempre preceduti da torrenti di fango e noi in questo fango ci siamo intrattenuti senza accorgercene molto anche perché ha un aspetto accattivante attraente e che è sostanzialmente manifestato o praticato negli egoismi personali e di gruppo disinteresse per il bene comune corruzione politica tradimenti infedeltà a livello interpersonale familiare disinteresse menefreghismo l'espressione del Vangelo costruttori di pace si espone un po' l'ambiguità della pace come prodotto dell'attività umana come se noi con le nostre sole forze fossimo capaci di costruirla il risultato di una nostra prestazione della nostra attività ma la storia dice che questo non è possibile la pace come dono cerca di andare più in profondità infine la tavola rotonda con i rappresentanti di associazioni in realtà che testimoniano che la pace sì è davvero possibile come anche adesso in Israele dove in un villaggio convivono ebrei e palestinesi a Neve Shalom beh speriamo appunto che la pace sia sempre possibile adesso vi proponiamo una visita importante quella dell'arcivescovo di Milano presso la CISL il sindacato la sede storica di Milano in via Tadino proprio a dire l'impegno della nostra chiesa su diversi fronti per essere incisivi come cristiani nella società sfuggire alle tentazioni del pessimismo creando luoghi di pensiero così come può essere la CISL tornato alla sede storica del sindacato cattolico per la seconda volta dopo una sua prima visita nel 2019 l'arcivescovo monsignor Mario Delpini non ha dubbi nell'indicare a tutti la sua preoccupazione per la tentazione di immaginare il futuro comunque come una minaccia e invitando a riflettere il più di centinaio di associati che gremiscono la sala dove si svolge il dialogo col segretario nazionale Luigi Sbarra e il segretario di CISL Milano Metropoli Carlo Gerla anche perché immaginare un futuro diverso di pace e di uguaglianza si può soprattutto sviluppando dice l'arcivescovo Alleanze le sfide che si presenta è di vivere la complessità come motivo di smarrimento e penso che invece l'essere insieme permette di affrontare la complessità come un invito alla saggezza il ricordo del vescovo Mario è anche per il suo papà che era un CISLino io ricordo il suo portafoglio in cui c'erano la tessera della CISL la tessera della democrazia cristiana la tessera delle ACLI la tessera dell'azione cattolica forse soldi non ce n'erano però tante tessere e lui però si è veramente vissuto con questo senso di responsabilità e di appartenenza da riferimento alla dottrina sociale della chiesa parte l'intervento di Sbarra per la CISL è sempre importante questo confronto perché da posizione laica noi siamo abituati ad abbeverarci alla sorgente della dottrina sociale della chiesa e mai come in questo momento c'è necessità di confrontarci sulle ragioni di tanta povertà di tanta disuguaglianza che c'è in giro e soprattutto per rilanciare e rinnovare anche il nostro impegno sui temi della pace ha ragione Papa Francesco quando ci richiama il fatto che oggi due grandi drammi impegnano questo mondo i conflitti e le tante disuguaglianze e certo non gli si può dare torto adesso una brevissima diciamo proposta di servizio perché il collegio Rotondi di Gorla Minore ha vissuto una giornata importantissima con l'udienza concessa dal Papa migliaia le persone che si sono recate a Roma e in Vaticano e allora noi vogliamo parlarne così abbiamo appena finito la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro celebrazione di ringraziamento per il 425esimo di fondazione del collegio Rotondi la celebrazione ha seguito l'udienza con Papa Francesco momento storico dove abbiamo visto un Papa Francesco affettosamente vicino ai ragazzi agli alunni e alle famiglie vogliamo custodire nel cuore questo momento ricordarcelo con grande fede ma soprattutto con un senso di riconoscenza è una giornata storica per il collegio Rotondi ma anche per la diocese di Milano che sono qui a rappresentare perché così tanti ragazzi insieme capita con i preadolescenti quelli di terza media dopo la Pasqua un pellegrinaggio così numeroso di ragazzi ma avere così tanti ragazzi con le loro famiglie che ha riempito questo pellegrinaggio che ha riempito la Basilica di San Pietro è stato veramente un momento emozionante anche per me a celebrare sull'altare della tomba di Pietro ma al di là dell'emozione è una storia che continua del collegio e dentro la chiesa nel collegio per 425 anni di storia rilanciata in questi ultimi anni in maniera grandiosa da Don Andrea da tutte le echipe degli educatori docenti è una storia della chiesa che da 2000 anni continua nella missione che Gesù ha fidato all'apostolo Pietro e agli apostoli che da qui sono partiti a evangelizzare il mondo e oggi abbiamo incontrato il 266 successore di Pietro che si chiama Papa Francesco è stata un'esperienza super adrenalinica entusiasmante e scioccante perché comunque non è che ti capita tutti i giorni essere davanti al Papa comunque è stato molto bello molto emozionante c'era molta tensione quando non arrivava il Papa ma è stato bellissimo essere lì sul palco in sala nervi a ballare vedere tantissime persone e i bambini caricano tantissimo sono super bellissimi concordo e beh insomma se abbiamo le giovani generazioni non possiamo che essere d'accordo oltretutto il Rotondi è il più antico collegio d'Italia che possa valere anche oggi una offerta formativa dalla scuola dell'infanzia fino all'università avete capito bene fino all'università grazie a un rapporto privilegiato con la sapienza di Roma ma potete scoprire tutto sul sito della diocega appunto sul sito del collegio Rotondi scusate ecco adesso ci lasciamo parlando della quaresima che inizia come ho detto il 18 di febbraio sul portale della diocesi di Milano trovate un'ampia pagina con gli approfondimenti il credo lo vedete ma poi anche i riti più significativi le celebrazioni penitenziali rivolti al clero le via cruci sezionali gli incontri di spiritualità e anche gli appuntamenti con la cappella musicale per le domeniche di quaresima in Duomo gli esercizi spirituali insomma di tutto di più vorrei dire e vi svelo anche che l'arcivescovo l'avete visto in quel suo diciamo promo del credo era nel battistero di San Giovanni alle fonti sottostante il Duomo ma che sarà anche in battisteri modernissimi come quello della parrocchia degli angeli custodi a Milano e poi il magnifico battistero di Varese ma non si può svelare di più a me rimane solo una piccola diciamo così sottolineatura avete visto poco fa padre Carlo Casalone presidente della fondazione Carlo Maria Martini ebbene per chi ci ascolta in diretta di giovedì oggi al 15 febbraio nel 1927 in questo giorno nasceva quello che sarebbe diventato l'arcivescovo di Milano cardinale Carlo Maria Martini e il ricordo tra noi è sempre vivissimo questo lo volevo proprio dire e l'ho detto va bene allora noi ci vediamo come sempre giovedì prossimo solita ora e poi gli approfondimenti da lunedì al venerdì con la striscia in onda dopo il telegiornale di Telenova ma anche on demand sulla app dell'emittente e sul portale della diocesi di Milano quindi di tutto di più per la finestra aperta sulla nostra amata amatissima chiesa ambrosiana grazie per averci seguito e ricordate l'appuntamento 20 e 32 naturalmente che ci accompagnerà fino alla Pasqua con l'arcivescovo ogni sera ciao arrivederci grazie a tutti grazie a tutti